Buonasera a tutti, prima di cominciare voglio salutare due amici che da Mondalto sono venuti a trovarmi, Giuseppe e Laura, grazie. Stasera vi abbiamo chiesto un sacrificio a venire qua alla piazzetta e non al comune perché noi vogliamo salirci con voi martedì a sera al comune. Da vincitore. Stasera voglio dire solo una cosa, cinque anni fa un candidato della lista di Ugo si è presentato a casa nostra quando ancora mio papà lavorava al comune. Ha detto Gigi non ti preoccupare, avevo una carta firmata, noi non l'abbiamo votata perché non crediamo alle promesse e in effetti si è visto, papà il vice comandante non l'ha mai fatta a Mendicino. Quindi quello che loro stanno facendo in queste ultime serie vi prego non credete, non ci credete più perché ormai non hanno più nulla da promettere. Il 6 e 7 giugno lista numero 2, Angelo Greco sindaco. Brava Raffaele, brava!